Musica Sequestro di sostanze stupefacenti del tipo marihuana e asci a Castrovillari nell'ambito delle azioni di controllo del territorio con l'operazione denominata Alto Impatto nell'intera provincia di Cosenza decisa in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal prefetto di Cosenza, la dottoressa Vittoria Ceramella e predisposti dal questore della provincia di Cosenza Giuseppe Cannizzaro d'intesa con i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza con il colonnello Giuseppe Dell'Anna, obiettivo fronteggiare situazioni di illegalità. Perlustrate le strade e zone più frequentate sia in Cosenza, Via degli Stadi, Via Popiglia, Piazza Autolinea e zone limitrofe che nei comuni di Castrovillari, Castano Loionio, Paola, Cetraro e Corigliano Rossano prestando particolare attenzione anche agli esercizi commerciali. A Castrovillari sono state effettuate anche perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi. Controlli in ambito provinciale da parte delle forze di polizia continueranno anche nei prossimi giorni.